Grazie a tutti voi, noi facciamo la testa della cruce, Gesù che è morto per noi, per noi, per cui siamo liberati dal peccato, noi sempre iniziamo la nostra prestia, ammigrandoci dai nostri portati, in modo da essere benediti. Per tutte le volte che vediamo il dolore e la sofferenza come assenza di Dio, Signore è una buona volontà, noi ti odiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Omnipotente, Signore per vivere meglio insieme come dono di Dio, per poter scambiarci i doni che Dio ha fatto ogni persona attraverso la storia che ogni persona ha vissuto. Alcune riflessioni e una testimonianza. Il saluto di gratitudine e di ringraziamento ad un primo che... in nome tuo, venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà, come il cielo, così terra, come il cielo e così terra. darci oggi il nostro pane, darci il nostro pane quotidiano. berci il nostro pane, è grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao a tutti. Grazie a tutti.